Ciao a tutti ragazzi qui MrBrain che vi parla e oggi siamo in un video molto molto diverso dal solito infatti siamo su un gioco diverso, siamo su Fortnite che è un gioco che mi sta veramente piacendo moltissimo e vedo che sta andando bene su Youtube e quindi ho deciso di portarlo ragazzi quindi questa è una top 5, non ne vedo moltissimi di Fortnite quindi spero che vi piaccia commentate nei commenti se vi piace questa scelta di portare anche video diversi sul mio canale e scrivetemi anche nei commenti e fatemelo capire con un bel like se questi video di Fortnite vi piacciono ma adesso raga vi lascio il video, ciao ragazzi Ormai molti Youtubers hanno iniziato a portare sui propri canali Fortnite e alcuni di loro hanno provato a barare e usare delle hack per vincere più facilmente le partite infatti oggi andremo a vedere 5 Youtubers bannati da Fortnite al numero 5 abbiamo Zakubus questo famoso streamer è stato bannato da Fortnite per aver fatto teaming con un altro player nella modalità giocatore singolo visto che questo va contro le regole del gioco Zakubus è stato bannato da Fortnite mentre R-Live facendo una figura molto imbarazzante che ci sono ...isn't it pixel? So the rule's not going to be overturned They're adamant that this was a form of teaming Which I guess it kind of was Avoiding each other Until a later time You know I know that every other team Out there was doing it They just weren't streaming it or got caught streaming it It sucks but you know Al quarto posto abbiamo MoeTV In questo caso lo youtuber in questione Non ha commesso nessun atto che va contro la politica di Fortnite Infatti mentre stava planando verso una casa Improvvisamente Le è comparso l'avviso che è stato bannato Lo youtuber incredulo ha iniziato a ridere E chiedersi spiegazioni del ban In questo caso 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 Al terzo posto abbiamo Alex Rame Gaming Questo player è forse lo youtuber in circolazione più forte al mondo Poiché vanta più di 1500 vittorie in solo Mentre erano una partita a squadra su Fortnite Alex ha iniziato a uccidere i suoi compagni di squadra Questo gli costo 15 giorni di ban al gioco Wait 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 I told you I needed a weapon All right I'll take all the weapons for myself Hold on Don't worry guys I told them I needed a frickin rifle He didn't want to give me anything Bro I just killed an 11 year old bro I'm gonna get banned Al secondo posto abbiamo un bambino random, questo bambino come lo youtuber nella quarta posizione viene bannato senza aver fatto niente, il motivo che gli viene iscritto è per aver usato una rete VPN o proxy, ovvero usando una connessione internet privata dove il gioco non può riconoscere l'indirizzo IP della rete. Al primo posto abbiamo Premises, questo youtuber insieme a un suo amico si sono fatti bannare volontariamente, Infatti un modo per farsi bannare è quello di salire sulle altalene e iniziare a saltarci sopra, il gioco vede il giocatore come se stesse volando, quindi usando dei trucchi e quindi i due player vengono bannati da Fortnite definitivamente. Bannati! 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 Al prossimo! Bannati! Al prossimo caso! D zweiten! D it's not working oh what the fuck was i banned i got banned yo were you banned we were jumping on the swings man we were jumping on the